Dottore e professoressa Viola, le faccio sentire un momento una piccola registrazione del professor Crisanti, che lei ben conosce, dato che venite dalle stesse zone. Ha detto una cosa questa mattina a radio che mi ha colpito. Ascolti e poi sento lei e Paolo Grandi. L'organizzazione Sanità è un baraccone che va smontato e ripatto da capo, perché è finanziato in gran parte da industrie private e da pochi stati. Guardi, se lei guarda la curva dell'epidemia che ci hanno in qualche modo somministrato i cinesi, è chiaro che ci hanno somministrato solo la parte finale della curva. Tanca completamente la parte esponenziale. Questo l'abbiamo già fatto notare in diverse occasioni, quindi non mi sorprende affatto questo. Penso che Cina ha mentito sull'inizio della pandemia, ha mentito sul numero dei casi, sulla mortalità, ha mentito sugli asintomatici. C'è stata una completa mancanza di rafferenza. Allora, professoressa, primo punto. L'OMS, la redazione mondiale della sanità, è un baraccone che va smontato e rimontato alla faccia. Prego. Beh, questo lo deve far commentare però il mio collega. Diciamo che sicuramente l'OMS non è stato sempre lineare nel comportamento durante questa pandemia. Ci sono stati dei ritardi gravissimi, prima di tutto il discorso della Cina, come sottolineava il mio collega, ma anche ricordiamo il discorso delle mascherine. Per tanto tempo ha continuato a dire che le mascherine non avevano senso ed erano completamente inutili. Adesso, appunto, c'è stata quest'ultima dichiarazione sugli asintomatici che non sono contagiosi, che francamente è una dichiarazione sorprendente. Dobbiamo anche dire che però è stata immediatamente ritrattata. Quindi il problema è un po' questo. L'OMS è fatto da tante persone e spesso le dichiarazioni del singolo non sono le dichiarazioni dell'intera struttura. E questo capisco che sia un fatto grave, perché quando si rappresenta invece un'istituzione bisognerebbe sempre rappresentare la comunità e non le proprie idee. Senta, professoressa, cosa pensa della seconda ondata, delle parole che ha detto il ministro? Allora, la seconda ondata, dobbiamo chiarire che cosa significa seconda ondata. Il virus è ancora in circolo, per cui è possibile che riprenderanno alcuni contagi, visto che adesso c'è una maggiore libertà, una maggiore circolazione di persone tra i vari paesi. È possibile che questo possa accadere verso settembre-ottobre. Perché? Perché cambiano le condizioni climatiche, perché si ritorna al chiuso, si ritorna a scuola. Però la seconda ondata non ci deve essere. Cioè, se noi ci troviamo... Dipende da cosa intendiamo per seconda ondata. Cioè, tornare a quello che abbiamo vissuto. No, questo non deve accadere. Possono nascere dei focolai, ma noi dobbiamo aver imparato a gestire questi focolai. Noi dobbiamo essere in grado di identificare immediatamente i nuovi contagi, attraverso un sistema diagnostico che funziona, e fare immediatamente i tracciamenti per bloccarli. Perché se noi siamo di nuovo sommersi da un ondata, qualcosa non ha funzionato. A proposito di focolai, però, chiedo ancora un momento di pazienza a gradi, poi arrivo da lui. Perché a Roma c'è il focolaio. Cioè, è una cosa abbastanza incredibile. In un ospedale... I focolai possono nascere, i focolai possono nascere. Ecco, no, ma la domanda che io le farò, le faccio vedere cosa è successo a Roma, perché la domanda che mi sono posta io è ma proprio in un ospedale è nascita un focolai? Abbiamo capito che è il posto più pericoloso. Io mi immaginavo che eravamo blindati negli ospedali.